Visto che un mio precedente video di prodotti Parkside reperibili alla Lidl ha suscitato veramente molto interesse da parte vostra e io ne sono veramente veramente strafelice di potervi consigliare o aiutare magari a scegliere perché no qualche acquisto per quanto riguarda elettro utensili porto quest'altro video qui sul mio canale perché perché nell'uscita del 29 gennaio ovvero lunedì prossimo quindi mancano due o tre giorni ci sono importanti importanti novità ma di questo ne parliamo subito dopo la sigla e dunque bene ragazzi perché porto questo tipo di contenuto io solitamente lo sapete non sono diciamo solito a portare recensioni per quanto riguarda il volantino vero e proprio della Parkside in genere sapete porto recensioni unboxing e quant'altro ma questa volta anche c'è un'importantissima novità per quanto riguarda gli elettro utensili che possiamo andare a scegliere e a comprare al nostro centro Lidl di fiducia ovvero parliamo sempre di prodotti chiaramente Parkside quindi l'altra volta ho portato sul canale un video dove dicevo elencavo magari tutte le cose che c'erano nei cestoni della Lidl perché erano veramente veramente tanti e invece in quest'altro video troviamo una importantissima no importante importantissima novità per quanto riguarda il risparmio sui nostri acquisti quindi mettiamoci comodi andiamo a vedere il volantino e vediamo che cosa è successo che finalmente la Parkside forse credo abbia fatto un piccolo passo indietro per quanto riguarda alcuni prezzi su alcuni prodotti quindi andiamo a vedere sul volantino che cosa c'è di nuovo ok ragazzi cominciamo questo breve veloce tour io cercherò di essere più preciso e rapido possibile perché gli articoli sono veramente veramente tanti allora cominciamo dalla smerigliatrice angolare a 24,99€ che non sarà provvista della batteria la batteria parliamo sempre quella che accomuna un po' tutti gli utensili Parkside ragazzi quindi sarà la batteria della linea X20V poi insieme alla smerigliatrice vedete ci saranno dischi da taglio da smeriglio tamponi e quant'altro ma quello non voglio soffermarmi perché ci sarà un'importante novità che è quella diciamo che è la motivazione principale che mi ha spinto dunque a portare anche questo video sul canale adesso ci arriviamo poi troveremo anche la levigatrice per pareti e soffitti ricaricabili e questo non ho mai avuto la fortuna di acquistarlo e di testarlo perché è un oggetto che veramente non uso comunque cominciamo a fare subito una piccola premessa ragazzi quando si comincia ad andare su utensili un pochino più grandi un pochino più macchinosi quindi tenete conto che la batteria da 2A anche se sono 20V sarà veramente veramente fiacca quindi proprio al limite del possibile perciò su un articolo del genere ragazzi cominciamo ad andare un pochino almeno da una batteria a 4A in poi ok quindi detto questo 99€ abbiamo visto poi troviamo anche il trapano avvitatore a percussione ricaricabile 3 in 1 sempre con la stessa batteria vedete della linea X20V a 19,99€ e secondo me per piccoli oggetti va bene come tassellatore va bene perché io ne ho uno simile certo non ci aspettiamo di forare un muro in cemento armato con una punta del 12 o del 14 perché altrimenti ci si squaglierà in mano però se dobbiamo fare qualche piccolo lavoro qualche piccolo intervento diciamo con punta da 6, 8, 9 perché no anche da 12 secondo me è una cosa molto molto fattibile e consapevole andiamo a parlare della vera motivazione di questo video che mi ha spinto appunto a portarlo sul canale batteria carica batterie X20V la solita linea che accomuna un po' tutti gli utensili da 2A ragazzi 19,99€ ok vediamo 19,99€ perché sottolineo questa cosa? perché per i più attenti se vi ricordate Parkside aveva ritenuto opportuno metterci 5€ sopra quindi questo carica batterie e batterie per circa un anno se non qualcosa di più lo trovavamo a 24,99€ adesso finalmente si sono decisi hanno fatto un passo indietro e ce la ridanno a 19,99€ poi hanno rimesso la batteria da 4A sempre da 20V della linea X20V a 29,99€ anche questa costava se non sbaglio 34,99€ perciò io sono molto felice della scelta diciamo di marketing che ha fatto la Parkside perché forse molto probabilmente si è resa conto che tanti utenti stavano abbandonando un po' questa linea o questo tipo di prodotti ok detto questo andiamo a vedere anche la fresatrice per tasselli piatti ricaricabile 59€ beh questo secondo me potrebbe essere un oggetto valido qualora si avesse la necessità di mettere qualche piccolo biscottino non quelli da mangiare sempre i tasselli lamelli quelli là che avete visto anche la recensione eventualmente lascio anche il link qui da qualche parte magari all'info box però io ho la versione quella a corrente forse mi fido un po' di più però stesso discorso ragazzi qualora si volesse acquistare andiamo su una batteria un pochino un po' più pompata almeno dai 4A in su dopo ritroviamo nuovamente anche la batteria smart da 8A a 69€ se consideriamo che se sono 8A 8A ragazzi che dovrebbero essere quanto dichiarati dal costruttore 70€ stiamo nella media per quanto riguarda batterie di questo calibro con la ricarica wireless è ancora meglio perché non abbiamo vincoli diciamo ricarica batterie cavetti e cavi vari un po' in giro però sono un po' scettico perché per quanto sia Parkside io la vivo e la vedo come una linea abbastanza economica ragazzi abbastanza per hobbysti quindi non so fino a che punto dargli la valenza per dire sì acquisto una batteria wireless da 70€ io ci penserei poi per carità la scelta è la vostra ok giriamo l'altro foglio del volantino ok sega circolare ricaricabile 49€ stesso discorso sempre stessa batteria profondità e angolo di taglio regolabile a piacere con guida parallela per un taglio preciso e guida laser attivabile quindi possiamo scegliere se attivarla o no in dotazione lama 24 denti premontata chiave a brucola guida parallela e adattatore per aspiratore esterno quindi il classico tubo dove potremo andare ad attaccare il nostro bidone aspiratutto oh finalmente alla guida di bloccaggio e di taglio anche qui si sono decisi a togliere quei 2 o 3 euro che avevano incrementato perché stavano a 12,99 se non sbaglio per un paio d'anni ha portato il prezzo un pochino maggiorato perciò hanno fatto marcia indietro anche su questo qui ok adesso andiamo a vedere anche il seghetto a pendolo ricaricabile a 40 euro ragazzi sempre stesso discorso lo so mi sto ripetendo però non pensate di mettere una batteria da 20 volt a 2 ampere perché ragazzi se troviamo un legno un pochino più diciamo un massello magari un metallo un pochino più forte secondo me la batteria 2 ampere ci lascia molto velocemente come succede anche sulla smerigliatrice angolare io ce l'ho e vi posso dire ragazzi che se comincia a fare 3 o 4 tagli un pochino più consistenti comincia ad andare in protezione perché la batteria se la succhia veramente in un modo spropositato perciò andiamo a vedere corsa a pendolo regolabile su tre livelli paratrucioli trasparente pieghevole e rimovibile ok sega a nastro ricaricabile regolatori di giri a 6 velocità numero di giri a vuoto dai 370 ai 670 giri al minuto profondità velocità di taglio 63,5 mm che cosa vogliamo parlare? 70 euro per una sega a nastro sega per metalli io ho avuto la possibilità di usare e testare una sega analoga a questa però è alimentata a corrente fa il suo lavoro, va bene una cosa del genere a batteria a sto punto che ne so, secondo me lascia il tempo che trova ragazzi non la vedo una cosa tanto tanto affidabile perché le plastiche della Parkside ragazzi sono un po' plasticose passatemi anche questo termine ovvero non c'è tanta compattezza non c'è tutta quella solidità perciò siccome è una cosa un pochino grande e da gestire e manovrare non è abbastanza semplice non so se dargli tanta fiducia però diciamo poi ognuno fa le proprie scelte pistola, eccola qui abbiamo anche la nostra pistola termica ricaricabile due livelli massimi di temperatura scelta a 250 gradi centigradi fino ad arrivare a 550 gradi centigradi beh ragazzi sempre chiaramente con la stessa batteria vedete X20V con aria fredda impostabile per un raffreddamento rapido flusso d'aria a 170 litri minuto in dotazione ugello riduttore ugello riflettente e ugello piatto ragazzi fino a che parliamo di 250 gradi la batteria sempre lo stesso discorso da 2A ok cominciamo ad andare oltre con le temperature io mi fermo un attimo perché secondo me non ha la giusta valenza e la giusta potenza poi troviamo la smerigliatrice assiale ricaricabile ok questa la possiamo trovare a 49 euro stessa batteria anche per questo utensile ragazzi è un Dremel perciò magari se avete già il Dremel quello con lo snodo con il cordino o un Dremel normale non vedo l'esigenza di poter comprare quella comunque poi per carità ognuno ha le sue proprie esigenze ok rifilatore ricaricabile 44 euro stessa batteria anche in questo caso ragazzi rifilatore è una cosa seria ha bisogno di potenze ha bisogno di giri lo comprerei io onestamente no però poi per carità se si volesse fare diciamo qualche rifilata qualche piccolo stondo qualche piccolo canale su dei pezzi dove non si ha la possibilità di avere appunto l'energia elettrica ragazzi potrebbe essere ma 44 euro magari ci metto un 20 euro 25 30 euro in più compro un qualcosina di poco 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 superiore sempre dal mio punto di vista poi ognuno fa le sue scelte per carità ci mancherebbe poi abbiamo anche l'adattatore ricaricabile che potrà accogliere anche batterie da 2, 4 e 8 ampere sia quelle normali che quello diciamo wireless la 8 ampere wireless e poi troviamo anche vedete il faro led ricaricabile da lavoro due livelli di luminosità regolabile e test orientabile due filettature integrate 5 ottavi e un quarto di pollice per l'uso con tre piede io ne ho presa una da una ventina di euro poi ne ho preso un'altra mi ci trovo veramente bene sono quasi ultra piatti l'avete vista anche quelle in qualche mio video specie quando faccio lavori di meccanica sulle mie macchine e mi ci trovo bene questa la vedo forse un pochino troppo elaboriosa forse troppo diciamo appacchianata per quanto riguarda le sue misure comunque ci dice la luminosità max sono di 2300 lumen a 5.7k quindi dovrebbe essere una luce molto 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 bianca 24,99 euro lo abbiamo detto anche questo con le solide batterie X20V che le mettiamo veramente dappertutto fra un po' anche dentro l'orologio ok andiamo a girare pagina troviamo tantissimi tantissimi accessori veramente molto molto utili 7 accessori per trapano chiave a cricchetto per mandrino quei classici diciamo mandrini a 90 gradi dove possiamo andare a mettere sia il mandrino portapunte perforare e sia addirittura quello che ha vedete il porta inserti ragazzi io li ho tutti e due uno per un avvitatore e uno per un altro non li uso quasi mai perché quando andremo a usare una cosa del genere ragazzi non avremo tantissimo spazio dove andare ad intervenire con le nostre vidi perciò io evito sempre di fare lavori troppo scomodi però se si dovesse presentare diciamo la necessità di usarli io ce li ho vanno bene per quello che devono fare ragazzi niente di che poi abbiamo le cassette porta minuterie impilabili due pezzi io non ce le ho però le ho viste le ho toccate con mano a casa di un amico e posso dire che il materiale è buono sono molto rigide hanno una loro chiusura si apre al libretto a farfalla diciamo hanno tantissimi scompartimenti e ci va veramente un sacco di minuteria quello molto probabilmente un paio di cassette me le prendo poi vabbè giacchetti deodoranti mutande portafogli cinte berrettini per l'inverno non ve li elenco nemmeno non vi faccio perdere tempo poi abbiamo portapunte magnetico 7 adattatori quadrati o 7 bit per cartongesso io ce li ho tutti quanti e il più delle volte non li trovo perché uno sta dalla parte uno sta dall'altra ragazzi però sono cose che 2 euro e 50 3 euro 5 euro si possono comprare se avete problemi di fredde i piedi potete comprare questi calzini io non so assolutamente se funzionano se tengono caldi però ci sono a 1 euro e 99 potete dire di aver comprato anche i calzini della Parkside a me non mi interessa perciò se volete li trovate ho una cosa veramente veramente importante ragazzi è la pistola spara punti ricaricabile manopola per la selezione della potenza del colpo max numero di 30 colpi per minuto anche questa possiamo usarla diciamo con la batteria x20v la solita linea a 34 euro e 99 io non ce l'ho non credo di comprarla perché ne ho una pneumatica che uso con il mio compressore ne ho altre due o tre manuali ho la sua diciamo simile un pochino più piccola che la vedete nei video se non sbaglio quando andiamo al poligono in qualche altro piccolo lavoretto qui nel lab molto molto affidabile molto performante anche se spara punti molto piccoli chiaramente perché ha una batteria integrata ed è molto più piccola quante volte so di molto non lo so però ragazzi 35 euro senza batteria nì non so non so è vero che sembrerebbe abbastanza robusta adesso andiamo a vedere un pochino più nel dettaglio però no i punti che punti ci danno vediamo un po' se ci riesco qui a vederlo un attimo i punti set di graffe e chiodi per pistola spara punti elettrica graffe tipo 55 allora 2000 o 3000 pezzi chiodi tipo 47 e 3000 pezzi possiamo trovarli a parte a 3,99 euro confezioni abbastanza grandi però io ne ho due scatole ragazzi ed è tantissimo tempo che le ho li sto usando perché non è che tutti i giorni uno sta a mettere grappette e viti graffette no grappette altrimenti ci ubriamo ok ragazzi poi la tronic qui ci rimette nuovamente le batterie AAA per 4 o AA sempre per 4 da 1,2 volts a 4,99 euro quello il prezzo lo sta tenendo come sempre e mi fa piacere poi troviamo anche il mescolatore vedete miscelatore per colore e malta anche questo sempre solida batteria qui hanno arrivato vedete 10 euro a 49 euro anziché 59 euro per mescolare materiali liquidi e in polvere adattamento ottimale alla miscela grazie al controllo della velocità a 6 stati che veramente ragazzi può fare la differenza perché qualora si avesse una vernice magari un pochino un quarzo magari allentato un pochino troppo con la velocità 1 o 2 ragazzi si ha la possibilità di mescolare un pochino meglio montaggio delle aste di miscelatura senza attrezzi e asta inclusa non vi aspettate di usare una 2 ampere su questo mescolatore perché secondo me non riuscirete a girare nemmeno l'acqua almeno partiamo da una 4 ampere in su almeno il mio consiglio ragazzi avete visto ragazzi quanti prodotti mettono anche lunedì 29 gennaio 2024 ce ne saranno veramente veramente tanti per fortuna questi prodotti questi utensili saranno ciclici ovvero ogni mese due mesi o tre mesi verranno riproposti ad oltranza però ripeto faccio questo video porto anche questo video per informarvi appunto per chi non avesse la possibilità di vedere il volantino quello cartaceo il volantino digitale la retromarcia che ci ha fatto Parkside su tante cose finalmente ci ha tolto quelle 2 o 3 euro o le 5 euro che avevano messo ripeto secondo me ingiustamente perciò anche questo video è giunto al termine io spero di non averti annoiato spero di aver fatto cosa gradita a portare anche questo tipo di contenuto qui sul canale e ti lascio le solide raccomandazioni che sono quelle di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto ricorda di attivare la campanellina per sapere quando porterò tutto quanto il lavoro che c'è dietro e non mi resta che ringraziarti ulteriormente per essere stato anche in questo video fino alla fine del video ci vediamo alla prossima ciao da capezza